Che diventa meno tre a un minuto e venti dalla... Cosa ho visto? Ragazzi! Buongiorno ragazzi, io, il mio caffè, il sondaggio vinto da Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder E vabbè, andiamo a vederci la partita ricordando che gli Oklahoma City Thunder hanno una sola vittoria in stagione Contro i Los Angeles Lakers, chissà che sia di buon auspicio Vamos! Eccoci qui ragazzi, bentornati alla reaction Lakers, Oklahoma City Thunder, non c'è Lebron e non ci sarà per una settimana circa Mentre qui Russell Westbrook, il primo tiro che si prende fatalità, è il tiro con cui aveva preso lo spigolo del tabellone nella partita scorsa Voleva mostrare al mondo che lui in realtà da lì è sufficientemente efficiente per quelle che sono le sue medie Ovvero tira col 33 invece che col 25 Comunque, volevo ricordare al mondo intero che gli Oklahoma City Thunder al momento hanno una sola vittoria Mentre SGA, SGA va di canestro da tre Conquistata proprio con i Los Angeles Lakers al termine di una rimonta epica, oserei dire Di una settimana fa circa, forse meno I Lakers che sembrano aver trovato un minimo minimo di ritmo Certo è che l'importanza di Lebron per questa squadra è sesquipedale, come direbbe Flavio Tranquillo Fatto sta che alla fine Russell Westbrook l'hanno preso proprio per questo Ovvero nei momenti in cui manca Lebron James Hai comunque un'alternativa più che valida Ancora SGA Con questa sua meccanica di tiro abbastanza particolare Perché insomma va molto molto di polso Mentre Dwight Howard fa fuori Dort Ancora palla all'angolo per Carmelo Anthony Che si beve il suo caffè In quella che è la sua mattonella ormai in questi Lakers Ancora pick and roll Westbrook Anthony Step back di Westbrook From downtown ragazzi Russell Westbrook Mentre Lebron James di bianco vestito Ellie che esulta per i compagni Mentre Austin Reeves Il più improbabile dei giocatori dei Lakers Potrebbe rasarsi ed essere il nuovo Caruso Ancora dalla stessa mattonella nello stesso modo Direi che Westbrook vuole dimostrare al mondo intero Che è stato un caso Quella sua tabellata allo spigolo Comunque Lakers che volano sul più 16 Temo Temo che sia una sorta di revenge La partita della vendetta Perché insomma Adesso a parte meno 12 Ecco appena detto Sgarriva al ferro per il meno 10 Però insomma I Lakers tendenzialmente dovrebbero avere sufficiente potenziale Per domare gli indomabili Oklahoma City Thunder Detto questo Sì al momento ribadisco L'unica vittoria di OKC È proprio contro i Lakers Qua a difesa Ma sono in 4 Dov'è il quinto? Ah si è fatto male Anthony Davis Va dai Va dai I Lakers sono in 4 Chi è che può aver male? Anthony Davis Ma come meno 2 Ma i Lakers proprio non ce la fanno Non ce la fanno a tenere un vantaggio Non ce la fanno Quando hanno tanto vantaggio Basta Iniziano a giocare sul velluto Sul velluto di merda Però perché vengono ogni volta rimontati Non hanno proprio Cioè non hanno le capacità di mantenere un vantaggio che sia uno Qua Anthony Davis si addormenta Josh Giddy Alias Adrien Rabiot arriva al ferro Dopo aver rubato palla E meno 5 Thunder Quindi insomma In metà del terzo periodo Bella palla ancora di Giddy Per Derek Favors Il re di vivo Derek Favors Ancora Lakers Avanti di uno Gran palla di Basemore Per Anthony Davis Che nonostante Gli innumerevoli Ed ororosissimi Infortuni È ancora in campo Cambridge Williams Con la sua Pettinatura Improbabile Ancora Sgà Per il pareggio Per il pareggio C'è niente da fare ragazzi Ok Sì È la bestia nera Dei Lakers Cioè se veramente Se tutte le partite Fossero Lakers Ok Sì I Thunder Probabilmente Campioni NBA Vincendole tutte Ancora Meno 2 Thunder Palla in post Per Anthony Davis Che vede il taglio Di Every Bradley Che si fa male Sti Lakers Geriatrici Ancora Rondo Più 6 Lakers Che provano a riallungare Con la tripla Di Carmelo Anthony Più 9 Questo giro Forse Se la svangano I Lakers Forse Mentre Sgà Con Il tiro Cadendo lateralmente Che bel giocatore Signori Ancora Stoppata Di Anthony Davis Su Josh Giddy In questo momento Più 7 Eurostep Anthony Davis Più 9 Ma ogni volta Che cade per terra Anche Anthony Davis Ci vuole una gru Per tirarlo su Montacarichi Ancora Dort Da 3 Per il meno 6 Mentre Derek Favors Si aggancia Sotto canestro Il re di vivo Ancora Shea Gilders Alexander Step laterale Ancora In faccia Austin Reeves Meno 1 Thunder Non ci voglio Credere Abbiamo una partita Abbiamo una partita Pazzesco Ancora Williams Più 1 Oklahoma City I tifosi Allo Staples Center Ammutoliti Ammutoliti Ancora I Thunder Fallo And One Gilders Alexander Non c'è niente Da fare Ragazzi Bestia nera Questi Thunder Westbrook Trascina Sotto canestro Tutti Trascina Sotto canestro Tutti Ancora Anthony Davis Marcato da Mike Muscala Che salta Nonostante Anthony Davis Non abbia fatto Nessuna finta Tripla Di Every Bradley Meno 2 Lakers Che diventa Meno 3 A un minuto E 20 Dalla Cosa ho visto Ragazzi Cosa ho visto Sga dal logo Accorcia Austin Reeves Ma che partita Sta venendo fuori Ragazzi Ma che roba è Gara 7 Di finale NBA Tripla di Carmelo Per il meno 2 Lebron intanto Ma che Che ce frega De Lebron Noi c'avemo Tai Jerome Ragazzi Bella difesa Dei Lakers Ma cosa fanno Cosa fanno Comunicazione Difensiva Veramente Da G League Bassa classifica Per i Lakers Certo La tripla decisiva La lasci Ovviamente Russell Westbrook Che in carriera Avrà il 20% Complimenti E Los Angeles Lakers Che riescono a perdere Due partite su due Contro la corazzata Oklahoma City Thunder Ebbene sì 14 di Baisley 17 di Dort 10 e 11 di Favors 28 Di Shay Gilles Alexander Con una tripla Dal logo Paurosa Paurosa 13 di Pettinatura Kerry Williams E 14 Del My Man Ty Ty Jerome Ma che c'è frega De Lebron Noi c'avemo Ty Jerome Dall'altra parte 29 18 rimbalzi 5 assist Di Anthony Davis 27 di Russell Westbrook E 21 Di Carmelo Anthony Il resto Dei Lakers Così e così Buona prova Di Evry Bradley E di Austin Reeves Oh ragazzi Se la stagione fosse composta da 82 partite tra Lakers e Oklahoma City Thunder Prima cosa avremmo tutte partite bellissime perché anche la prima è stata molto bella con la super rimonta degli Oklahoma City Thunder Questa seconda punto appunto appunto molto bella e ragazzi niente Oklahoma City Thunder bestia nera di questi Los Angeles Lakers che sembravano aver trovato un minimo di equilibrio un minimo e poi perdono di nuovo con OKC Non so che dire ragazzi in ogni caso ottima scelta per quanto riguarda il sondaggio ci è andata più che di lusso e non so che dire Lakers che vanno sempre in vantaggio anche in doppia cifra abbastanza facilmente poi lo perdono lo perdono si spengono totalmente spengono totalmente la lampadina a livello soprattutto difensivo e basta Non sono né carne né pesce al momento né carne né pesce devono darsi assolutamente una svegliata in tempi molto molto brevi Ragazzi ci vediamo in pausa Franza su Twitch per oggi la reaction è finita e mi finisco anche il caffè Ciao Grazie a tutti